post partita dalle gavagnino cini al termine di virtus verona arzignano valchiampo vincono in rosso blu grazie a un gol di mattia pagliuca mattia tanto l'emozione del primo gol in rosso blu no è stato bellissimo prima perché c'erano tutti i miei miei amici a vedermi quindi ero me lo sentivo infatti prima della partita non so mi sentivo proprio di dover fare questo qualche aspettavo da tanto è stata un'emozione farla qui davanti allo stadio nostro stadio nostri tifosi sono contentissimo ma sì certo ma tentato complimenti per il primo gol in campionato con la virtus e nei professionisti ti chiedo il peso di questa vittoria alla luce del periodo che avete trascorso del doppio scontro diretto vinto caldiero derby arzignano scontro diretto sei punti di grande peso sì come detto te sono sei punti importantissimi perché all'inizio del campionato anche pur facendo grande prestazioni da parte di tutta la squadra non si erano usciti a fare secondo me i punti che ci meritavamo con questi diciamo che anche prima della partita gigi ci ha ricordato che erano molto importanti anche questi tre fortunatamente sono arrivati all'ultimo e continuiamo su questa strada perché secondo me il gruppo siamo siamo forti e ci meritiamo ci meritiamo questa questa vittoria e quella scorso oggi decide un dettaglio no l'episodio alla fine proprio per arrivare a far sì che il dettaglio decida ci vuole una squadra che abbia un certo tipo di struttura no oggi forse sei stato meno brillante di altre volte e hai raccolto altre volte sei stato più brillante ma non hai avuto killer instinct no che rapporto c'è tra le due versioni della virtus e come avverti questa crescita comunque che c'è al di là dei risultati nella tenuta complessiva della squadra ma penso che noi siamo una squadra giovane e che mette giù un buon gioco a volte spesso capita che secondo tempo ci ci abbassiamo un po troppo invece tante volte partiamo subito forte dobbiamo cercare di di tener gioco tutta la partita che sappiamo farlo bene e non mollare un centimetro perché oggi all'inizio siamo partiti bene e poi ci siamo un po persi però secondo me lavorando come stiamo facendo i risultati arriveranno parliamo dell'attacco ci sono tanti piccoli particolari non si è sbloccato dei marchi e poi ha trovato continuità si è sbloccato vanito e oggi comunque è stato lui a colpire di testa comunque a essere decisivo finalmente ti sei sbloccato tu c'è un reparto offensivo che ha una rotazione perché comunque siete stati tutti i titolari e state piano piano riuscendo ad avere incisività tutti che peso c'è e anche qual è un po la chimica che vi lega pur nella diversità secondo me il gruppo fa la differenza perché siamo un gruppo che si che si vuole bene dal primo all'ultimo sappiamo di essere un attacco forte sono tutti sono tutti forti e come ho detto prima ci vogliamo bene tutti l'importante che il risultato arrivi e questo secondo me è la nostra forza che ci vogliamo tutti bene è un gruppo giovane e proprio è bello vivere lo spogliatoio è molto bello ti chiedo l'ultima domanda di livello personale ha impattato bene con il gruppo hai lavorato bene nel periodo di prova in precampionato poi il campionato è un'altra storia hai avuto le tue chance sei uscito da un infortunio cioè comunque hai già avuto un saliscendi che può essere lezione per il futuro però hai dimostrato il saper essere sul pezzo te ti chiedo l'evoluzione nel percorso con la virtus come lo valuti ma sicuramente sono arrivato qui con un punto interrogativo sono sono riuscito a a farmi a farmi vedere poi ho avuto due due incidenti di percorso in ritiro e due se tre settimane fa contro 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 renate che mi hanno fatto mi hanno fatto pensare un po come a migliorarmi a livello fisico e adesso piano piano cerco di cerco di di recuperare al meglio adesso dopo tre settimane sono sono tornati in campo con un gol e penso a lavorare giorno dopo giorno e farne sempre il più possibile ciao tanto complimenti ti chiedo diciamo la determinazione con questa entrati in campo tu gomez comunque l'avete voluta cercata in maniera forte questa vittoria che sembrava diciamo spuggire perché comunque sembrava un pareggio ormai iscritto invece si è entrata in campo molto bene e tante volte le partite si decidono negli episodi tante volte ci sono andate male e questa volta ci è andata bene siamo contentissimi ti chiedo un po il tuo inquadramento tattico insomma se sei più una punta o comunque puoi anche agire nel sulle altre quarti ti chiedo insomma qualcosa preferisci tu ma io mi definisco molto d'utile quindi posso ricoprire più ruoli non ho un ruolo fisso però diciamo che un po esterno tre quarti dietro la punta mi trovo un tro meglio e però necessità posso ricoprire ricoprire molti più ruoli e dedica dei gol ai miei amici e miei genitori grazie 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 grazie